Disclaimer e contenuti di questo materiale didattico sono offerte da terze parti, non a TICMIL e danno carattere puramente adeguativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprende a questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi, in conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento presso dai partecipanti e degli iscritti reclina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti e indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato, pertenza sul rischio i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere del denaro in tempi previi a causa della leva, 73% e 70% dei conti dei clienti al dettaglio, perdere denaro facendo training con il CFD rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD, valuta se comprendi come funziona nel CFD se puoi sostenere elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il secondo appuntamento con Fabio di PIP Trend Academy, nel primo, non so quanti di voi c'erano al primo webinar di presentazione di questa strategia che è appunto lo spread training sul Forex, magari me lo scrivete in chat, però faremo poi comunque, Fabio farà un recap su quello che ci siamo detti nel primo webinar e ricordo che poi c'è la registrazione sul sito, sul canale YouTube di TICMIL. Quindi, prima di entrare nel vivo, vi presento TICMIL, molti di voi ovviamente già lo conoscono, TICMIL è un broker non dealing desk, significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato dall'FCUK, quindi fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline, non ci sono le quote, nessuna limitazione sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, e la velocità dei nostri server, degli oltre 10 server, garantisce un'esecuzione ultra rapida, quindi con una media di 0,10 secondi. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui prelimini, né tantomeno sui depositi. Questa è la mappa dei server di TICMIL, quindi quello più importante è Londra, Norvirginia, Tokyo, poi ci sono quelli di backup. Potete confrontare in qualsiasi momento gli spread delle commissioni di TICMIL con altri broker, dal sito esterno di MyFxbook noterete che quasi sempre TICMIL ha gli spread delle commissioni più basse rispetto agli altri competitor. Grazie a queste caratteristiche TICMIL per due anni è stata segnita come broker per migliore esecuzione e ordini sia nel 2018, questo signore qui che vedete stringere il premio è l'amministratore delegato di TICMIL, Duncan Anderson e nel 2019 anche come miglior broker per esecuzione. Allora, io ho completato la presentazione, passo il monitor a Fabio, vediamo, questo è sempre un momento topico, Esatto, perché allora assegna ruolo al relatore, sì, quindi dovresti essere, ok, perfetto lo vediamo, dovresti già vedere, ok. Perfetto Fabio, io ti leggerò poi le domande, facciamo un po' come l'altra cosa. Sì, perché io non le vedo, non ti sento più, mi senti perché io non sento più niente? Giuseppe, dammi un feedback perché non ti sento. Giuseppe? Giuseppe? Sentite? Sì, adesso ti sento. Non so, forse ho avuto un problema con GoToWebinar, sarà un po' la connessione di questi tempi, ci lascia, però tu Fabio vai avanti, io cerco un attimo di recuperare la connessione. Proprio altro per le domande perché io non le vedo e quindi io comunque parto. Sì, da qui riesco a seguirti, però non so quanto possa resistere la connessione, tu nel caso fai il webinar e poi cerco di vedere che cosa è successo nel frattempo. Chiedo scusa. Chiedo scusa anch'io, buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, sono Fabio Sella, sono un trader indipendente e programmatore per MQL4 ed MQL5, faccio parte di un team svizzero che si chiama PipTrend, siamo loro partner dall'Italia dal 2017. Questi sono i nostri riferimenti, quindi abbiamo un sito piptrendacademy.com, un'email che è info-piptrendacademy.com, abbiamo anche un canale Telegram, Instagram, potete trovare tranquillamente tutto dal sito, quindi andando a piptrendacademy.com, in alto a destra avete dei link dove potete vedere i nostri canali Telegram, Instagram e quant'altro, quindi ci potete contattare tranquillamente su qualsiasi social. Facciamo questo secondo appuntamento che abbiamo con lo spread trading, quindi facciamo una carrellata su quello che era più o meno la base, la teoria dello spread, perché abbiamo iniziato a usarla e quale vantaggi ci dà. Lo spread in realtà non è una cosa nuova che abbiamo inventato noi, ma è un modo di operare che sfrutta alcune particolari condizioni del mercato, è nata con le commodity anni fa, noi abbiamo ripreso questa... Fabio, scusa se ti interrompo perché ci dico che non ti sentono, vediamo un po', però Massimo dice che sente bene, allora chiedo scusa, allora si sente bene? Ah ok, allora per quei 3-4 che non sentivano bene, probabilmente forse loro un problema di connessione, chiedo Venia, ma purtroppo siamo tutti collegati e può saltare, però io comunque ti sentivo bene anche prima. Ok, scusami Fabio, io sembra che abbia risolto anche i problemi di audio, quindi riesco a seguirti e a leggere le domande. Perfetto, quindi dicevamo è un vecchio modo di operare che è nato con le commodity, noi l'abbiamo preso, riadattato, modificato nelle formule, nel modo di operare e l'abbiamo in questo caso adattato per il Forex, quindi lo utilizziamo per il Forex. Vi faccio prima vedere la promozione perché è sempre la parte più interessante, quindi questo è il secondo evento che facciamo e per ora è l'ultimo, quindi non so quante altre opportunità ci saranno, quindi solo per chi ha partecipato al primo webinar e al secondo, e per chi si registra ovviamente con TICMIL visto che è lo sponsor della trasmissione, daremo a tutti i partecipanti i nostri software che sono gratuiti, non si trovano sul mercato e in particolare abbiamo un indicatore di spread, quindi quello che vi dirà dove entrare e quando entrare, quindi quando statisticamente il mercato è a nostro favore e un trade manager, l'abbiamo chiamato così perché proprio gestisce i trade, quindi è un incrocio tra un expert e uno script, quindi è una sorta di tools che permette di tradare in maniera semi-automatica e poi le vedremo, ma ha un sacco di cosine carine tipo se io non sono davanti al PC mi chiude le posizioni in profitto e quant'altro, quindi è un manager che aiuta a tradare lo spread che potrebbe essere una cosa complicata se gestita manualmente, ma con questo indicatore, con questo manager diventa una cosa veramente molto semplice, questa è una delle caratteristiche interessanti dello spread trading proprio perché è un sistema molto semplice e nella sua semplicità è anche molto robusto, molto robusto perché parla di correlazioni, quindi ha una base di correlazione, va a prendere le correlazioni di mercato, quindi tutto quello che crea legame tra due mercati, e va ad analizzare le inefficienze di mercato e grazie a questo va a prendere degli spunti operativi e quindi ci dice quando entrare al mercato, quando statisticamente è più favorevole entrare al mercato. Vediamo subito quindi perché usare lo spread trading, perché abbiamo iniziato a usarlo, come dicevo è facile da usare, quindi può essere utilizzato sia da che più esperto, dopo facciamo anche qualche esempio pratico, l'altra volta ho fatto vedere degli esempi quando l'indicatore dà un segnale puro, però nulla vieta di fare più ingressi e per chi è più esperto di poter tradare in maniera un po' più professionale, però nonostante la sua base solida è anche facile da usare, quindi per chi è alle prime armi vedrete che è veramente molto molto semplice da usare e anche da installare. Un altro vantaggio dello spread trading e uno dei motivi per i quali abbiamo iniziato a usarlo è la diversificazione del rischio, perché noi andiamo a tradare come minimo due mercati contemporaneamente, questo significa che qualsiasi condizione ci sia nel mercato, noi andiamo a aprire più operazioni almeno su due mercati, se non su quattro, su sei o anche di più, e quindi o addirittura può capitare che magari in un time frame per dire H1 abbiamo un'opzione di spread che ci dia un'indicazione buy, mentre in daily potremmo avere un'indicazione sell, questo va a zerare completamente l'esposizione a mercato e quindi ci dà meno drawdown, meno esposizione a mercato e ci rende libero il capitale per poter tradare e differenziare il rischio con altre valute, quindi più diversifichiamo il rischio, meno siamo soggetti a notizie piuttosto che improvvisi movimenti di mercato e quant'altro, quindi tutto quello che è per il trader dell'Ethereo viene lenito dallo spread trading. L'altro vantaggio è che come ho anticipato già prima è un modo di operare non direzionale, quindi essendo non direzionale non guardiamo il mercato in maniera convenzionale, non facciamo analisi in maniera convenzionale e riesce a lavorare sia in fase di trend e soprattutto sia quando il trend è rialzista, sia quando il trend è ribassista, ma anche quando il trend non c'è e quindi quando è in laterale, quindi lavora correttamente in tutte le fasi di mercato. A noi non interessa più facendo un'analisi con lo spread trading e andare a capire se il mercato ha un trend o se è in laterale, ma facciamo semplicemente delle operazioni. Non dico a caso, ma siamo molto vicini perché, come vedremo dopo, fare spread significa aprire sia un buy che un sell, quindi indipendentemente da dove sono io apro sia un'operazione buy che un'operazione sell, quindi mi diventa praticamente quasi inutile fare analisi. È una tecnica che dà facili profitti, sono piccoli rispetto a un mercato, o comunque rispetto a un modo di tradare tradizionale, però sono piccoli proprio perché il doppio ordine, quindi quello buy coperto da un sell o viceversa, quindi il secondo ordine che ci fa da copertura, ci fa da paracadute, quindi ci va a allenire i profitti, quindi ci va a abbassare un po' il profitto, ma ci va a dare un grado di sicurezza molto molto più alto rispetto a un trading tradizionale. E ultimo, ma non per importanza, è che si può usare anche su tutti i time frame, quindi possiamo utilizzarlo dall'M5 fino al weekly. Ovviamente tradando su un differenziale, infatti spread significa differenziale, quindi noi andremo a guadagnare tramite lo spread su una differenza che facciamo tra il buy e il sell. Lavorando sull'M5, il movimento di qualsiasi, ad esempio l'euro dollar sull'M5, magari potrebbe essere di 10, 15, 20 pip, capite che andare a guadagnare su un differenziale da 20 pip, perdendone magari 10 più i costi del broker di gestione... Fabio ti abbiamo perso. Io ti sento. Tu mi senti adesso? Mi sentite? Probabilmente ho problemi di linea io, anche se vedo che mi dà la connessione completa. Ok, come ne ho detto, allora è un problema mio perché anche in chat alcuni non sentono, quindi c'è chi riesce a sentire e chi non riesce, però mi dispiace, al limite poi con la registrazione ve la riguardate con calma. Sì, speriamo che la registrazione sia corretta e al massimo faremo una registrazione solo per chi non sente, vedremo di... tanto dovremo avere le mail di tutti, se qualcuno dovesse aver problemi ci contatta e saremo lieti di contattarlo e nel dettaglio questa nostra tecnica. Tornando allo spread, come dicevo, si può usare su tutti i team frame, quindi noi generalmente lo usiamo sull'H1 o sull'H4 o anche sul daily, perché ci sono movimenti un po' più interessanti e quindi ci danno un po' più di guadagno. Però chi volesse tradare in maniera un po' più veloce, quindi è adatto sia a chi vuol fare, tra virgolette, scalping, quindi fare molta operatività, anche se in realtà si può fare anche scalping sull'H4, perché comunque i movimenti sono abbastanza veloci e diretti quando si entra, quindi si può anche entrare sull'H4 e portare a casa 20 punti, per esempio, liberando così sempre il nostro basket, il nostro portafoglio per altre operazioni, quindi per chi volesse avere un'operatività comunque più veloce si può utilizzare, ma chi volesse fare il cassettista si può anche utilizzare il team frame molto più tranquillo, e quindi è adatto a tutti, veramente tutti. Facciamo un attimo di chiarezza su cosa è lo spread, è una forza, come dicevo, si basa sulle correlazioni, quindi va a studiare i legami delle valute, adesso facciamo subito un esempio, e si basa su quattro punti base, che sono le quattro regole fondamentali per poter tradare. Sono quattro, ma poi vedremo che utilizzando i nostri strumenti diventano sostanzialmente poi due. Quindi le uniche regole che io devo sapere e conoscere a memoria, che sono quelli vincolanti per un buon, per lavorare correttamente con lo spread training, sono che lo spread si fa su due o più strumenti, quindi almeno due. Le operatività deve essere sempre di segno opposto, quindi lavorando su due strumenti, uno andrà in buy, uno andrà in sell, se invece uno andrà in sell, l'altro andrà in buy, quindi due operazioni sempre di segno opposto. Le operazioni devono essere fatte simultaneamente, sia in apertura che in chiusura, quindi devo aprire le operazioni contemporaneamente e devo chiuderle contemporaneamente, quindi sostanzialmente devo considerare le due operazioni come se fossero un'operazione sola. E altra cosa molto importante è che deve esserci una esposizione finanziaria sulle due valute esatta, esatta, quindi devono avere esattamente lo stesso peso, la stessa esposizione finanziaria sul mercato. Quindi su strumenti che quotano valori di mercato molto differenti, devono andare a fare una proporzione corretta perché l'esposizione deve essere identica, di modo che la mia operazione, che è quella che chiamiamo paracadute, quella che mi va a coprire eventuali problematiche, quindi deve autogestirsi, deve essere una copertura perfetta con la prima e quindi la stessa esposizione finanziaria va a darci quello che è il segreto dello spread, quindi va a coprire esattamente la nostra operatività. Come funziona? Lo vediamo. Mi stavi facendo una domanda, dimmi pure. Sì, scusami Fabio. Allora io capisco che molti abbiano questi continui problemi di audio, e mi scrivete, lo leggo, ci sarà la registrazione, quindi è emerso che molti di voi riescono a seguire il webinar e altri come me ad esempio hanno dei problemi comunque momentanei, quindi di un audio che va e viene. Però ci sono delle domande a livello operativo. Sì. Ad esempio Alessandro ti chiede come fai a calcolare lo stesso peso di sites sulle diverse valute contando che non abbiamo i pip di stop loss? Praticamente vuole sapere come fai a calcolare le sites in base alle coppie valutare che vai a tradare visto che hanno un peso diverso. Sì, prendo semplicemente il valore di quotazione, quindi ad esempio questo è uno spread dell'euro dollaro contro l'audi usd, guardo quanto quota l'euro dollaro, in questo caso quota 1.08, guardo quanto quota l'audi usd, quindi 0.6, e partendo dal presupposto che devo fare 1 come somma totale, diciamo che devo fare due operazioni, quindi un 0.6 e 0.6, mi arriva 1.2, quindi è quasi simile all'euro dollaro, quindi devo fare due lotti di audio usd per fare ogni lotto di euro usd, con le dovute proporzioni, quindi se vado a tradare i micro lotti farò un micro lotto di euro dollaro e due micro lotti di audio usd. Altre valute, tipo ad esempio l'euro yen e l'usd yen, sono 119.20, 108 su conti piccolini, diciamo che un micro lotto e un micro lotto va bene, magari se andiamo sopra l'otto ci sarà qualche centesimo da sistemare. Comunque basta guardare il valore di mercato, quindi quello che è il mio valore di mercato deve essere identico anche per l'altra valuta, quindi se l'altra valuta avrà un valore molto basso dovrò andare a compensare con questo, diciamo che tendenzialmente il valore del PIP deve essere uguale, quindi quello che io vado a pagare su un PIP di uno deve essere uguale per l'altro. Ok, perfetto, allora non tieni conto della maggiore volatilità di una valuta rispetto all'altra? No, quella ne tiene conto il nostro indicatore ed è quello che ci fa guadagnare, quindi proprio il fatto che una valuta rispetto all'altra si muova di più o di meno è quello che fa guadagnare, è quello che ci fa prendere punti sullo spread. Ti faccio l'esempio qui, su quello stesso grafico che ho postato l'altra volta, questi sono due grafici, euro-dollaro in daily e GBPUSD in daily, sono correlati, quindi la base della correlazione c'è, quindi vedete che l'euro-dollaro scende e nello stesso arco di tempo il GBP dollaro scende, l'euro-dollaro sale, nello stesso arco di tempo il GBP sale e così via. Come si vede, ad esempio qui abbiamo l'euro-dollaro che fa 320 punti di discesa, mentre il GBPUSD fa 360 punti di discesa. Questo è quello proprio che serve a noi, perché noi andremo a guadagnare sul differenziale di trade dai 320 ai 360. Chiaramente sta ai nostri studi, all'indicatore, dirci qual'operatività è più corretta, quindi in questo caso sarebbe più corretto fare un buy dell'euro-dollaro di modo che vado a perdere 320 punti, ma fare un sell del GBPUSD di modo che vado a guadagnare nei 360. Guadagnati 360 di qua, persi 320 di qua, io vado a guadagnare il differenziale, quindi 40 punti di profitto me li porto a casa. Chiaramente l'indicatore deve lavorare in maniera corretta, però questo cosa ci dice? È un altro vantaggio dello spread trading, quindi se io tradassi in maniera errata, quindi andassi a tradare completamente l'opposto, quindi andassi a fare un sell dell'euro-dollaro e un buy del GBPUSD, non mi vado a fare male, perché il buy dell'euro-dollaro non mi va a prendere 320 punti di stop, ma va a essere lenito dall'altra operazione che è meno 360, quindi tra i due differenziali, io comunque anche su un'operatività errata non andrò fuori di 320 punti, ma solo di 320 meno 360, quindi 40 punti. Quindi lo spread mi farà o guadagnare 40 punti o nel caso di operatività completamente errata, su un percorso di 320 punti andrò a perderne solo 40 e questa è la parte interessante dello spread. Ovviamente, statisticamente, l'indicatore ci va a fare proprio questo lavoro di ricerca e ci va a dire qui è più importante che fai il buy e qui è più importante che fai il sell, quindi andrà a guadagnare 40 punti. Nella seconda fase di salita abbiamo 500 punti di percorso dell'euro e 600 del GBPUSD, quindi ci dirà vendi l'euro-dollaro e compra il GBP, quindi comprato il GBP andremo a guadagnarne 600 e andremo a perderne 500, quindi avremo un differenziale di altri 100 punti portati a casa. Nella terza fase, ancora più interessante, perché quella differenza di mercato della quale mi hai fatto tutta la domanda, quindi proprio cade a fagiolo, nel senso che abbiamo un sell dell'euro-dollaro, una volatilità diversa, addirittura un'inversione di mercato, quindi durante la discesa il GBP ha anche poi una fase finale di inversione risalita, quindi se io vado a fare un sell dell'euro-dollaro e un buy del GBP, il GBP scendendo mi va contro di 360 punti, ma risalendo il buy mi va a recuperare 230 punti e quindi non avrò più una perdita di 360, ma una perdita di 360, meno 230 di punti recuperati, più un guadagno di 370, quindi il mio guadagno non sarà più 10 punti, ma sarà 10 più i 130 del differenziale di questa volatilità diversa del GBP-dollaro, quindi se c'è volatilità diversa per noi è anche un vantaggio, come in questo caso. Perfetto, allora le domande sono tante, io direi che comunque te le faccio perché riusciamo a seguire meglio poi il discorso con degli esempi pratici. Alessandro ti chiede, quindi anche se in perdita potremmo aspettare e chiudere quando il differenziale è in profitto di tot punti, chiedo se può andare bene anche questa operatività e poi Maurizio chiede, anzi scusami Alessandro, chiede come trovi il segnale di uscita. Allora, statisticamente ti posso dire che 9 volte su 10 lo spread va sempre a profitto, lì poi è questione di come uno vuole gestire il suo capitale, nel senso che se uno fa un'operazione di questo tipo daily e vuole stare fuori anche tre mesi o sei mesi, prima o poi lo spread tenderà a rientrare, oppure nel frattempo potrei fare dei trade in H1 e in H4 per andare a compensare, generalmente io faccio così, se un'esposizione è molto lunga, o vado a fare altri trade in un time frame più basso per andare a coprire la perdita e quindi vado a chiudere tutto, oppure porto a casa la perdita. Tanto le portinità, vedete che sono queste, sono parecchie, adesso poi le vediamo più nel dettaglio, ma anzi te le faccio vedere subito. Se io prendo Forex Factory e vado a prendere, come dicevamo, la correlazione è a base di tutto, quindi io vado a prendere da un 70% in su, tutti quelli verdi sono quelle che hanno una correlazione del 70%. Vedi che ogni combinazione è una correlazione di spread che io potrei fare, quindi vedi che già con un 70% sono parecchie. Se voglio ottimizzare, più la correlazione è alta, meglio è, posso andare a un 80% o un 90% addirittura, vedi che le combinazioni con un 90% sono parecchie, quindi ogni verde è una possibilità di trade che posso fare. Quindi preferisco a volte chiudere una perdita, anche se non voglio tenerla a tre mesi, però diciamo che discrezione del trade. Le statistiche sono quelle. MyFxBook o Forex Factory come sito? Forex Factory, scusa. No, MyFxBook. Ok, MyFxBook, perché ho riconosciuto il layout. Poi ti chiedono se è possibile fare qualche esempio su potenziali coppie interessanti al momento, cioè se ci sono degli esempi, probabilmente ci arrivavi dopo, visto che comunque stavamo facendo un resoconto, però in chat fremono per avere un po' di esempi operativi. Va benissimo, nessun problema. Se riusciamo magari a vedere qualcosa. Assolutamente. Poi un'altra domanda, se lo swap può inficiare questo tipo di operatività oppure no? Ok, allora rispondo sul discorso stop. Non abbiamo stop, ma perché, come dicevo prima, gestiamo due... Sì, no, ero indietro alla domanda precedente, non ho risposto a quella, penso Alessandro, che mi diceva dello stop. Non abbiamo uno stop a livello, perché ovviamente lo stop lo facciamo o quando l'indicatore mi dà un segnale opposto oppure quando fisicamente, come dicevo, non so, mi prefigo 100 euro di profitto, vado a 100 euro di perdita, lo chiudo. Quindi lo stop in realtà lo gestiamo a livello monetario, non a livello di livello. Quindi, come dicevo, lo spread è una gestione un po' diversa. Il discorso swap dipende dall'operatività, però capita a volte che lo swap, anche su un daily, possa avere una valuta con un swap negativo, ma mi capita anche a volte degli swap positivi. E comunque sono talmente bassi che generalmente si inficia un po' sull'operatività, ma non in maniera così esagerata. Anche perché su un daily, questo è l'esempio, ok, ROYEN o SDYEN su un daily, vi faccio vedere questa operazione qua, per esempio, mi ha portato in 10 giorni 528 punti. Quindi capisci che anche se pago 10 euro di swap, fare 528 punti su una valuta sola, mi pago tranquillamente lo swap, quindi non è così pesante lo swap, anche se sono su un daily. Perfetto, poi consideriamo anche che sono crollati gli swap anche per via dei tagli delle varie banche centrali, quindi sono inferiori rispetto ai costi che sostenevamo prima. Sì, ma anche con quelli che take me ha degli swap veramente bassi, quindi non ti dico, assolutamente utilizzabili. Esatto. Altre domande? Ce ne sono sempre tante se magari riusciamo a vedere direttamente dall'indicatore che hai, come ho fatto vedere verso la fine del, io direi di adesso dare un taglio magari operativo, in modo tale che facciamo degli esempi concreti su potenziali spread che potrebbero esserci adesso, così magari facciamo vedere anche un po' il processo decisionale che attui nel momento in cui decidi di fare un'operazione in spread trading. Assolutamente. Vi faccio vedere, poi adesso vi faccio anche vedere dell'operazione che ho aperto, perché durante l'ultimo webinar ho dato un buy qui, che in realtà questo spread continua a fregarmi, nel senso che io continuo a aprire posizioni, ma mi vanno in guadagno, me le chiude, quindi io non riesco mai a farvi vedere in tempo reale uno spread funzionante, anche se ho visto che prima ne ho aperto, infatti questo me l'ha portato in guadagno, l'ho aperto ieri alle 5 e mezza, vedo che adesso siamo in profitto, quindi poi ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Comunque continua a portarmi a casa da solo, monetizzo da solo, è una cosa fuori di controllo ormai, è una cosa incredibile. Spiego velocemente l'indicatore, così si capisce come utilizzarlo. L'indicatore è questo, come vedete si trascina sul grafico come un normale indicatore, ha delle opzioni che sono, facciamolo vedere con due, e poi diciamo tutto il resto sono opzioni che poi uno si può provare tranquillamente, tanto un po' di pratica fa solo bene. Banalmente si attiva lo spread con true o false e vado a mettere una leg 1, che è la prima valuta che voglio analizzare, in questo caso ad esempio abbiamo l'euro yen, e la seconda valuta che voglio analizzare, quindi l'usd yen. Do l'ok, mi traccia un grafico di questo tipo che ha queste caratteristiche. Allora, la linea blu centrale è la nostra mediana, a quello che può essere il nostro zero. Il nostro zero di, diciamo, che poi lo utilizziamo o come profitto o come target, quindi quando andiamo a fare un buy, ad esempio sulla parte bassa andiamo a comprare, questo potrebbe essere un primo target, anche se poi vedremo che l'operatività può essere anche mista. Possiamo operare in diversi modi. Comunque abbiamo la linea dello zero, che è quello che ci separa, la zona buy, che è quella bassa, dove c'è la linea verde, quindi tutta la parte bassa per noi e buy. La zona sopra lo zero è tutta sell, quindi in questa fascia abbiamo solo operazioni sell da fare. Questa è la prima base. Lo spread è quello grigio, quindi la linea grigia è quella che è il nostro spread, quindi come dicevo, ha un movimento che va sopra lo zero e sotto lo zero. Più è alto, meglio è per la vendita, più è basso, meglio è per l'acquisto. Abbiamo inserito queste due bande, che sono quella verde che ci indica una fascia probabile di vendita, quella rossa una fascia probabile della vendita, quella bassa che è una fascia probabile per l'acquisto. Quindi, come in questo caso, l'indicatore si muove, va a toccare la linea verde, andiamo ad acquistare. Quindi qua facciamo un buy, infatti vedete che nel grafico è scritto buy euro yen, quando facciamo un buy sulla prima operazione e andiamo a fare un sell sulla seconda. L'operatività, come dicevo, può essere fatta in vari modi, quindi quello che io faccio negli esempi è comprare quando è basso e vendere quando è alto. Quindi chiaramente quando arrivo sulla parte alta andrò a fare l'operatività contraria, andrò a vendere la prima valuta e comprare la seconda. Anche se io, essendo lo spread una curva matematica, quando io compro qui, come dicevo, sono sulla parte dello zero, quindi sulla mediana centrale, io so già che qui avrò un profitto. L'esempio ce l'abbiamo qua, quindi abbiamo fatto un sell, sell, io ho fatto un buy, quello che ho fatto nel webinar di sistema della volta scorsa, mi è andato un po' contro, però cosa succede? È salita la curva da qui a qui, infatti io qui, quindi qui, due giorni dopo, avevo già un profitto e lo vediamo velocemente, perché io qua mi dà un buy, buy significa comprare lo spread, comprare lo spread significa comprare la prima e vendere la seconda, nonostante la valuta sia scesa, io vado a fare l'acquisto, quindi vado a perdere 83 punti dopo due giorni. La seconda valuta, vado a venderla e mi è scesa in due giorni di 330 punti, quindi 330 li guadagno, 80 li perdo, avevo già un profitto di 200 punti. E quindi lo spread mi è andato a guadagno, anche se poi mi ha dato un altro buy, quindi per chi vuole un'indicazione, io ho già fatto un buy, se non avessi fatto il gain, avrei comunque mediato e aperto un'altra posizione perché mi sta dando ancora indicazioni buy. È un'indicazione daily, quindi minimo 3, 5, 10 giorni, possono passare anche 3 mesi, però mi sta dando indicazione buy, quindi per chi volesse provare in demo questa operatività, fare un buy di Euro Yen e fare un sell di USD Yen. Questa operatività che ha chiuso, io ho aperto ieri, me la, vi faccio vedere anche, così approfitto per farvi vedere il pannello, mi sta portando un profitto di 48 Euro e ce l'avete qua. Eccolo qua, sono fuori con operazione di 9, uno in profitto di 6 e uno in profitto di 48. Questo è il pannello che vi viene dato omaggio assieme all'indicatore che vi ho fatto vedere prima. Il pannello ci aiuta a tradare in maniera molto semplice perché banalmente io ho un tasto verde per fare il buy, un tasto rosso per fare il sell, quindi quando sono nella banda verde schiaccio il tasto verde, quando sono nella banda rossa schiaccio il tasto rosso. Devo solo mettere la prima valuta con opzione nel primo riquadro, la seconda valuta con opzione nel secondo riquadro, o i tasti più o meno che mi permettono di cambiare i lotti, quindi il lottaggio in tempo reale lo posso modificare, devono avere la stessa posizione di mercato, quindi in questo caso ho fatto 0,10 e 0,10, e poi premo il tasto buy o il tasto sell. Per incrementare la posizione, visto che adesso questo è un euro yen contro un sd yen, potrei andare a, avendo ancora il buy, posso andare a utilizzare ancora il pannello, così lo vediamo anche in tempo reale, aprire il mio pannello, metto le mie valute come parametro, quindi euro yen jpy contro usd yen, il pannello mi chiede il lottico, voglio tradare, posso lasciare a zero, tanto posso correggerli a mano, e ho qui in cima dei bei, delle belle voci che si chiamano, ad esempio, profitto, questo profitto è quello che, come dicevo prima, mi aiuta a chiudere l'operazione automatico, quindi impostando io un profitto qui, ad esempio 10 euro, forse un'operazione magari che adesso faccio con qualche centesimo, lui monitora quella che è la mia operatività, quando quell'operazione che apro mi arriva 10 euro di profitto, tra tutte e due le valute, quindi 10 euro netti, mi chiude l'operatività in automatico, quindi do ok, lui imposta le valute che ho impostato, vado a scegliere i lotti, in questo caso ho l'indicatore basso sulla linea verde, premo open buy spread, lui mi va a aprire le due operazioni, auto 3 negativo, si ok, open buy spread, ok, andiamo a vedere che mi ha aperto le operazioni, vedete che in basket 1, perché il primo basket di questa coppia di valute ha messo già il profitto, che è chiaramente negativo, perché ci sono i costi di apertura dell'operazione, andiamo a vedere che mi ha aperto l'operazione buy di euro yen, e sell di USD yen, quindi in tempo reale allo stesso minuto, allo stesso secondo, e tramite questo pannello posso o andare a premere close basket, di modo che se io apro ad esempio un'altra operazione, perché voglio fare un'operazione contraria, posso fare un sell spread, mi andrà a aprire un basket 2, e avrò monitorato in tempo reale i singoli valori, i singoli differenziali dei singoli gruppi, quindi potrò con il close basket 1 chiudere il profitto 1, con il 2 chiudere il 2, e viceversa, e così via per tutti i 10, posso gestire fino a 10 basket contemporaneamente, oppure ho un total profit che mi riassume il totale di tutti i basket, quindi se io avessi, come nel caso che vi ho fatto vedere prima, un più 48, e un più 6, e un meno 9, il differenziale mi fa più 30 euro, che mi dà più 30 euro, faccio close all basket, mi chiude contemporaneamente tutti i basket, oppure la terza opzione per chiudere è, come dicevamo, il profit, quindi io imposto il mio profit, posso scegliere anche il profitto per ogni singolo basket, quindi posso andare a tradare basket con pesi diversi, quindi il basket 1 chiuderlo a 100, il basket 2 chiuderlo a 50, il basket 3 chiuderlo a 30 euro, oppure il profit, che questo qua è la prima voce, e questo è il profit, che è come se fosse l'all basket, quindi il profit totale di tutti i basket, in modo che se voglio per sicurezza andare a gestire varie operatività, e andare a chiudere prima, perché ho troppe esposizioni, piuttosto che posso mettere un valore di profit molto basso, e il sistema, anche se non sono interpici, andrà a chiudermi in automatico le mie operatività, quindi questo è più o meno quanto. Perfetto, è molto comodo, perché puoi gestire appunto vari spread. Rimane tutto sott'occhio, io ho sott'occhio subito i profitti e le perdite, quindi tutto molto gestibile. Esatto, allora, una raffica di domande. Bene, mi fa piacere, vuol dire che è un argomento interessante. Sì, sempre molto, anche molto dibattuto, perché ovviamente c'è stata anche la, diciamo, la domanda che abbiamo, a cui abbiamo già risposto nel primo webinar, perché non andare a operare direttamente sul sintetico, però abbiamo anche già risposto, e vi consiglio anche di andarvi a guardare un po' gli spread che ci sono su i cross più esotici, tipo sterline AUD, rispetto alle measure. Se andate a vedere questo tipo di spread, vi parlo non di spread trading, ma proprio di spread, quindi a differenza tra bid e ask, noterete che il spread su GPB AUD è maggiore rispetto allo spread che invece avreste sul GPB USD e AUD USD, quindi andreste a spendere di meno rispetto al cross originario. Ci sono molte situazioni di questo tipo, e quindi conviene in quel caso anche fare lo spread, e quindi non è vero che poi si paga il doppio, i doppi costi. Allora, vediamo un po' da dove iniziare. Ovviamente questo tipo di tecnica si può, mi chiedono, adattare anche agli indici e ai metalli preziosi, giusto? Assolutamente sì. Stesso discorso, si apre il CFD piuttosto che il metallo prezioso, quindi vado a prendere il DAX, piuttosto che quello che volete, si inserisce come un indicatore è normalissimo, si va a mettere nella prima valuta, in questo caso l'Italy 40, adesso non dico che va confrontato con una valuta, però metto come secondo leg il secondo indice sul quale voglio confrontarlo con, l'MT4 ha questo piccolo problema, nel senso che il nostro spread va a calcolare lo spread per tutti i time frame, quindi se vedete il grafico nero come in questo modo andate a fare un refresh di tutti i time frame caricandoli, la piattaforma se li carica e poi vedete che ridisegna lo spread. Teriamo via la griglia e vedete che lo spread funziona esattamente come la valuta, quindi ha un comportamento sinusoidale rispetto alla sua banda blu centrale, ci dice dove vendere, dove comprare, in questo caso comprare qui, comprare qui, vendere qui, vendere qui, e così via. E si procede come prima, quindi posso andare a mettere nel mio pannello invece che l'euro yen, il DAX, l'SP o quello che volete e funziona al stesso modo. State attenti perché comunque il discorso lotti tra DAX e SP è un po' diverso rispetto alle valute, quindi lì dovremmo fare un po' un discorso, magari facciamo una webinar o comunque una registrazione solo per il discorso all'ottaggio perché diventa un po' più interessante, un po' più importante, però il funzionamento è esattamente identico. Perfetto, sì, poi nel caso magari approfondiamo anche questo discorso, mi chiedono quant'è il momento per, quando arriva il momento per rinunciare a uno spread training? Nel senso, se ti va troppo contro, quando è che rinunci all'operazione? Allora, per fare quello posso farti vedere questo esempio qua che è in tempo reale e le operatività che ho fatto in questi giorni. Allora, lo spread sale, ho una prima indicazione di sell, mi va contro, ho una seconda indicazione e ho una terza indicazione. La mediana è un buon filtro per poter dire ok, stiamo andando male, nel senso che se io, ad esempio, prendiamo il caso di questo sell che va giù e non tocca la mediana e mi torna su, potrebbe essere una buona uscita. oppure la uscita classica è io ho un sell quando arrivo a buy ovviamente devo invertire l'operatività però già la mediana mi dà, come in questo caso ad esempio io mi sono avvicinato alla mediana mi ha dato comunque profitto era un'uscita ottima e infatti poi mi ha dato contro e mi ha dato l'opportunità di aprire un altro spread in buy quindi la mediana è già un indicatore di tocco la mediana mi torna indietro vuol dire che c'è qualcosa che non va quindi questo spread non va bene. poi come dicevo io faccio a volte delle mediate quindi entro con la prima volta mi torna giù entro la seconda faccio fino a tre ingressi tanto che uno 001 su un conto da 10.000 mi cambia veramente poco e prima o poi questo spread andrà su e riuscirò a portare a casa qualcosa quindi la mediana è un primo indicatore di tocco la mediana mi torna contro il procedimento che deve fare è questo apro mediana e mi vado dalla parte opposta questo è uno spread perfetto tenendo sempre d'occhio le correlazioni in questa fase le correlazioni non erano perfettamente allineate però siamo riusciti a portare a casa lo stesso qualcosa e l'indicatore dello spread questo è una cosa che voglio farvi vedere è questa ho fatto il primo sell qui ho fatto il secondo sell qui e sono andati tutti e due bene il terzo ho messo una X e non l'ho fatto perché perché in realtà quando ho chiuso la candela eravamo qui e se guardate è vero che sta scendendo però siamo molto vicini alla mediana quindi il mio guadagno è il movimento dello spread più lo spread è alto lontano dalla mediana più guadagno essendo qui molto vicino io avevo questo spazio per guadagnare quindi molto molto piccolo avendo già avuto altri ingressi questo non l'ho fatto quindi più siamo lontani dalla mediana meglio è quindi magari anche in questo caso dove le bande sono strette eviterei di fare di fare spread io qui non vado sell perché comunque sono troppo vicino ho poco spazio per guadagnare qui in cima è molto buono qui in base è molto buono la distanza è molto alta qui sono molto vicino non farei comunque un buy ok l'hai fatto se non sbaglio vedere prima nella tabella Massimiliano ti chiede è possibile come è possibile poi proteggere le posizioni in gain se non sbaglio c'è una variabile in cui inserisci il profitto sì magari la facciamo rivedere certo dentro le opzioni abbiamo il singolo profitto per singolo basket quindi se vado a tradare con lotti diversi posso gestire i singoli profitti e poi ho questa variabile che si chiama profit che è il close all basket quindi quando questa variabile va a profitto mi chiude tutti e dieci basket qualunque esso sia in realtà abbiamo anche una piccola cosa che non ho fatto vedere ma c'è che è questa qui sotto che è una sorta di break even quindi io imposto la percentuale di profitto che voglio proteggere quindi in questo caso ho impostato il 75% di profitto e il valore di break even che voglio quindi in questo caso gli dico al 75% di profitto portami a casa 5 euro quindi quando la mia operatività arriva a un 75% rispetto al mio 10 euro se mi torna contro quando scende mi vado a 5 euro mi porta comunque a casa 5 euro quindi oltre al profitto ho anche un break even che posso impostare per poter essere sicuro di modo che io sono a 7 euro e 50 su 10 non voglio comunque andare a perdere o prendere un negativo porto a casa comunque 5 e il 5 è un parametro quindi posso impostarlo a 1 posso impostarlo a 6 o quello che voglio quindi posso tranquillamente andarmi a gestire anche un break even che è un'interiore cosa che l'altra volta non ho fatto vedere quindi grazie all'ascoltatore per avermi dato questo spunto in più perfetto poi abbiamo Cristian che ti chiede ma quanto è il rischio rendimento ad operazione che percentuale di rischio bisogna assumersi e poi c'è Antonio che ci dà una ci condivide una sua esperienza utilizzato in passato questa tecnica però ha perso più di 2.000 euro con valute molto correlate tra loro ti chiede come come mai probabilmente ovviamente anche ha assunto un rischio un po' troppo elevato rispetto a quello che era si sarebbe da se ci vuole contattare se ci vuole contattare io lascio l'email info piptrendacademy.com possiamo valutare e vedere assieme il perché perché ti faccio vedere uno storico di un mio cliente che ha poco senso nel senso che comunque è uno storico abbastanza piccolo però io ti dico abbiamo fatto degli storici su un conto reale di ormai due anni e l'esposizione massima è stata 20% abbiamo fatto dei backtrack test l'esposizione massima è arrivata a un 25% quindi esposizioni molto tra virgolette limitate rispetto a un profitto del 100% e ti voglio far vedere questo storico per due motivi in realtà sono vari però quello che salta all'occhio è il capitale molto piccolo 250 euro quindi tradando con micro lotti qua sono tre giorni di trade quindi poco poca roba in tre giorni è fatto 24 trade quindi una un'attività abbastanza abbastanza alta su 250 euro di capitale ha fatto 112 quindi quasi il 50% quindi un capitale molto molto una percentuale di guadagno molto molto alta la cosa interessante è il drawdown il drawdown relativo e massimo è stato del 487% quindi mi sembra strano che appunto questo cliente abbia perso cifre così alte se la nostra operatività è questa quindi facendo un 100% spingendo parecchio il drawdown è stato del 5% statisticamente ti dico ho visto in 10 anni di storico il 25% quindi mi sembra molto molto strano probabilmente c'è stato qualche errore o utilizzava il vecchio indicatore che si trova in rete quello del razio che comunque è un calcolo diverso dal nostro quindi no però non specificava non era con voi nel senso parlava della tecnica in generale essendo il razio un indicatore che si trova gratuito ma è nato per le commodity noi questo l'abbiamo studiato è adattato per il forex quindi probabilmente il razio ha quel problema nel senso che se io vado a tradare due valute e continuano a allargarsi continua a allargarsi il mio gap e continua a perdere e la perdita continua a crescere e santo se Antonio conferma che era quello il problema e quindi questo è il motivo quindi anche poi risposto un po' a Cristina sul discorso del rischio di assumersi comunque facendo vedere appunto il tipo di operatività poi Francesco ti chiede potresti spiegare meglio il settaggio dello spread level e poi spiegare meglio il settaggio parametro dell'indicatore alla voce spread level non so se si si no c'è la domanda assolutamente lo spread level non è altro che un aiuto in più rispetto alla banda di questa banda qua che abbiamo quindi avendo un valore ad esempio qui di 4,20 se io imposto uno spread level ad esempio qui a 3 lui a 3 inizia a mettermi delle frecce le abbiamo viste prima non mi ricordo dove però basta abbassare un livello possiamo fare anche tranquillamente questo mettendo lo spread level e quindi è un aiuto in più questo qua adesso è a 10 quindi non fa vedere le frecce se io lo spread level lo metto a 3 come in questo caso mi disegna delle frecce qui eccole qua adesso si confondo magari con quello che ho disegnato prima però vedete qua delle frecce l'evidenzio così ha fatto delle frecce sell quindi quando è andato sopra rispetto allo 0 sopra al 3 ha disegnato e ti dice ok qui devi fare sell qui devi fare sell qui devi fare sell non sono tutti da fare ma ha dato delle indicazioni dicendo ok sei andato sopra il livello che mi hai prefissato e quindi ti do un'indicazione in più rispetto a già quella che ti ho dato prima quindi di aprire il sell è nato lo spread level anche per una cosa in più che è questa sotto abbiamo tra gli altri parametri un mail text mail e text mail up e text mail down che sarebbero praticamente il testo che io voglio farmi mandare abilitando l'email alert il pop alert o il push alert adesso sono a false ma abilitandoli io questi alert vanno a leggere lo spread level che ho impostato quindi ad esempio se io io qui ho statisticamente un spread level di 4 io posso impostare ad esempio un spread level di 3 o di 2 abilitando a true l'email alert mi arriva una notifica quando il livello 2 quindi io so prima che lo spread mi sta andando al livello di operatività e quindi ho un alert o un pop o una mail che mi avvisano rispetto a quello che ho impostato come spread level e quindi ho degli avvisi in tempo reale o anche in maniera anticipata quindi io posso se sono lontano al pc so che io voglio operare con il livello 4 che per esempio è questo lo imposto a 3 io l'indicatore mi avvisa prima con una mail o con un alert che mi sto avvicinando sta scendendo e mi sto avvicinando al livello che io ho impostato quindi è una sorta di aiuto in più per poter avere un'indicazione anche se sono lontano dal pc di quando sto arrivando al livello che voglio tradare in questo caso è imposto a 3 e l'indicatore mi fa un laterale di questo tipo quindi mi lateralizza in questa fascia il mio livello alto 3 qui sopra e il 3 qui sotto non mi avvisa e non mi dice che devo operare quindi sono tranquillo e è un aiuto in più per poter operare lontani dal pc perfetto allora io siamo arrivati già alle battute finali c'è una domanda ricorrente su come averlo poi vedo che ci sono parecchi clienti di Tickmill allora come funziona per farvelo avere gratis tutto avete visto che comunque sono strumenti molto professionali quindi non si limitano solo all'indicatore ma anche poi alla gestione con la dashboard che abbiamo visto chi è già cliente di Tickmill basta aprire un nuovo conto dalla vostra area clienti quindi e associare questo conto al codice IB di Fabio in questo modo oltre ovviamente ad avere l'indicatore e la dashboard gratuitamente quindi se avete almeno depositato 1000 euro avrete anche uno sconto del 5% sulle commissioni che non fa mai male quindi visto che siete leggo molti di molti clienti di Tickmill se non avete nessuno IB cioè se avete aperto il conto senza alcun codice IB potete semplicemente inviare la richiesta a me quindi a Giuseppe Chioccio la Tickmill punto co punto UK segnalandomi il vostro numero di conto e poi io vi spiego tutto via chat se invece siete già sotto un IB dovete comunque aprirvelo dalla vostra area clienti ci mettete meno di 60 secondi per aprire un nuovo conto però dovete inserire il codice IB quindi è sempre meglio che mi inviate un'email così vi do anche il codice IB quindi potete mirarla o a me o direttamente a Fabio e Fabio se fai vedere un attimo i vostri riferimenti così potete scrivere direttamente anche a lui quindi diciamo che l'iter l'iter è molto cerchiamo di comunque perché so che già sono arrivate molte richieste nel primo webinar e ci abbiamo impiegato pochi giorni alla fine quindi dipende un po' anche dalle varie richieste però generalmente nel giro di un paio di giorni riusciamo ad evalere tutte le richieste e quindi adesso Fabio vi sta mostrando i propri riferimenti sì anche per comodità se volete basta che vi insegnate www.piptrendacademy con un acisola punto com andate sul sito al centro c'è il logo di Ticmill premete sul logo vi reindirizza già con il nostro con il nostro account IB e quindi aprite il conto reale da qua crea account siete già associati a Ticmill e quindi arrivano poi le comunicazioni a Giuseppe o a noi questo è il metodo più veloce per chi non è cliente di Ticmill esatto per chi è cliente per chi è cliente dobbiamo fare uno step in più quindi però a voi non costa nulla nel senso non c'è non dovete aprire un nuovo conto e inviare documentazione fate semplicemente dall'area clienti un nuovo conto training però va associato al codice IB magari qua vi scrivo il codice 9088 esatto e adesso lo sta scrivendo Fabio così se voi già vi aprite il conto training inserendo questo codice IB è molto è molto intuitivo quando aprite dall'area clienti apri nuovo conto però c'è scritto appunto c'è una finestrella con scritto codice IB intendo nuovo codice IB inserite quel codice che inizia con IB G9 dovete inserirlo tutto e viene automaticamente registrato e poi inviate un'email a Fabio o a me e inviamo con quell'indicatore quindi credo che sia molto semplice come procedura siamo comunque disponibili in questa assistenza anche tu sei molto disponibile quindi se ci contattano qualsiasi problematica la riusciamo tranquillamente a gestire assolutamente ok io mi scuso per i problemi di registrazione per l'audio quindi la registrazione sarà disponibile già da domani quindi poi ve la giro ve la manderò via email così vi mando anche le istruzioni da seguire via email per l'apertura e tutto così è molto più chiaro e niente quindi poi ci risentiamo al prossimo webinar e quindi ci teniamo aggiornati in questo senso grazie a tutti grazie Fabio webinar sempre molto interessante bene abbiamo fatto un po' di fretta però siamo riusciti a fare più o meno tutto abbiamo spiegato molte cose c'è ancora molto da dire vedremo nei prossimi webinar di spiegare un po' più nel dettaglio alcune cose perfetto perfetto è un mondo nuovo esatto vedo che comunque c'è molto interesse in chat quindi vanno approfonditi in molti alcuni aspetti quindi sicuramente ne organizzeremo un altro e quello di prima mi state chiedendo in chat è sempre disponibile sul sito di TPM allora vi faccio una bella email e ve la mando a tutti gli iscritti così vi spiego un po' tutto anche l'iter per aprire il conto e dove andare a rivedere le registrazioni ve la mando comunque non oggi ma nei prossimi giorni grazie a tutti e vi auguro una buona serata grazie a tutti buon trading a tutti grazie Giuseppe grazie Picmil ciao Fabio ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti